Spettacolo nuovo, insomma rivista nuova, signori si nasce noi, abbiamo dedicato quest'anno lo spettacolo al grande Totò perché insomma noi comunque pur essendo lombardi siamo napoletani di dentro, abbiamo avuto quest'idea, è andata molto bene, tra l'altro quest'anno è piaciuto veramente a tutti, qui al Politeama stiamo facendo l'esaurito per due sere, quindi insomma siamo strafelici, grazie ai genovesi, grazie a signori si nasce e noi, è una rivista molto molto carina, ci divertiremo insieme, ci sarà tanto da ridere, il tutto appunto condito da scenografie, musiche, costumi meravigliosi come solo i legnanesi ormai stanno facendo perché comunque siamo l'ultima compagnia che porta la rivista l'italiana sul palcoscenico, dedicheremo proprio il finale del primo tempo alla napoletanità, con le canzoni più belle di Napoli e poi addirittura la Teresa canterà, io amo Govi e mi dispiace che non lo mandino più in televisione, fino a qualche tempo fa su Rai 5, su Rai 3 avevano fatto qualcosa o meno, ma Govi insomma è un po' la storia dei legnanesi, è nato come sono nati i legnanesi, l'anno prossimo tratto festeggieremo i 70 anni, torneremo anche a Genova e quindi adesso siamo rimasti la compagnia più longeva d'Italia e Govi insomma viva Govi, viva la genovesità se si può dire.